Un buongiorno a tutti voi cari telespettatori di FanoTV, oggi è martedì 7 settembre 2021, questa è Occhio ai giornali, commento alla stampa del giorno che comincia con il santo, il tempo e poi appunto i giornali. Iniziamo allora a vedere il santo, oggi è Santa Regina di Alise, il sole è sorto alle 6.38 e tramonterà alle 19.34. Uno sguardo al tempo con il sito della protezione civile delle Marche, per oggi avremo cielo sereno un poco nuvoloso, per domani lo stesso, cielo sereno un poco nuvoloso, non si escludono brevi isolati fenomeni pomeridiani, soprattutto in collina e in montagna, per la giornata di giovedì 9 settembre ancora cielo sereno un poco nuvoloso, tempo stabile anche nel fine settimana. Allora questa mattina andiamo subito a Senigallia, nella spiaggia di Velluto di Senigallia, nella spiaggia del piccolo Lido dove c'è Enzo Monarchesi, buongiorno Enzo. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati. Allora il sole sta tramontando, sta spuntando, anzi è spuntato ormai, diciamo la verità, dai, è spuntato dietro di te su questo splendido mare di Senigallia, buongiorno, che cosa ci racconti? Beh, è una splendida giornata, questo è un momento splendido, quando il sole sorge, la spiaggia è stupenda, ci sono molte persone che passeggiano, molte persone che corrono. Ma ascolta, come mai spiaggia di Velluto? Spiaggia di Velluto perché la nostra spiaggia è composta da una sabbia finissima che al tatto sembra Velluto, quindi sembra di camminare sul Velluto. Sul Velluto. Allora ci fai vedere un attimo il tuo stabilimento che conosciamo per la prima volta oggi, se ti giri un attimo così lo vediamo e facciamo vedere tutti i nostri telespettatori che ci seguono tutta la regione Marche. Allora abbiamo una serie di ombrelloni, sono tanti però questi Enzo, quanti sono? Beh, la nostra è una spiaggia grande, diciamo, ben attrezzata, che ha molto spazio e sì, abbiamo circa 200 ombrelloni, quindi possiamo ospitare molte persone. E vedo anche ci sono degli ombrelloni diversi rispetto a quelli classici, come mai questi ombrelloni con tipo paglia, che cos'è? Ma diciamo che è un po' un vezzo, è un po' una carineria, se volete, vicino al mare abbiamo questi ombrelloni un pochino più grandi che sono coperti con una tessitura in paglia rispetto a quelli classici che sono in tela. Avrò modo di conoscerti meglio, so che tu hai due stabilimenti, così mi hanno detto dalla regia, due stabilimenti, uno si chiama Piccolo Lido, dove siamo adesso, e l'altro? Esatto, e l'altro è Playa del Rei, è la novità di quest'anno, ci lavorano le mie figlie. Ah, ok, magari qualche giorno andremo anche di là, no? Faremo vedere anche l'altra spiaggia, che dici? Eh, perché no? Ok, allora buona giornata Enzo, buon lavoro a te e a tutti i tuoi ospiti, ce li hai gli ospiti? Grazie. Sì, questa settimana, perché il tempo è buono, no? Tanto. Sì, sì, diciamo che fino al weekend del 12 abbiamo ancora gente. Bene, bene, buon lavoro allora, buon lavoro. Sì, sì, quindi lavoriamo, siamo contenti. D'accordo, grazie. Allora, subito i giornali, perché oggi davvero ci sono tante notizie che ho selezionato per voi, e cominciamo dal Carlino di Pesero. Allora, intanto la notizia che apre tutte le edizioni, a dire il vero, del Carlino in tutte le marche, sono le dichiarazioni di Acquaroli. Acquaroli che dice no all'obbligo di vaccino. Credo che questa sia una cosa importante, che ha detto Acquaroli. Acquaroli, ovviamente, espressione di Fratelli d'Italia, quindi conosciamo bene quali sono le posizioni del partito di Giorgia Meloni. Quindi non poteva, verrebbe da dire, che essere altrimenti. Il governatero dice io il siero l'ho fatto, ma è giusto lasciare libertà di scelta, mentre sulle mascherine in classe, visto che si tornerà a scuola, lui suggerisce sempre e non invece, come è stato riferito, quella disposizione che prevede che se tutti sono vaccinati, i bambini in classe potrebbero anche non metterla. Ecco, ma lui invece insiste. Acquaroli dice le mascherine sempre. Ma vedremo poi l'intervista nel dettaglio tra poco. Invece, sempre dalla prima del Carlino, operazione alla cataratta, ripassi tra due anni. Ecco i tempi imposti dal Covid. È il caso di un'anziana fanese. Sull'emergenza idrica, Ricci, il sindaco di Pesaro, dice o si apre il Burano oppure si fa un nuovo invaso. L'acqua serve e di conseguenza bisogna affrontare già da adesso le eventuali criticità del prossimo anno. Un ventenne finisce alla sbarra perché ha obbligato la madre a dargli le sigarette, processo per estorsione, poi inizia il festival del Brodetto con grandi chef a Fano, già aperte le prenotazioni. Ricordo che però è obbligatorio il Green Pass. Centro pagina la fotonotizia nottata per il tampone. Studenti, impiegati e tanti altri in fila fino alle tre di notte, pensate, per i test in farmacia. Sotto invece lo sport, la vista perso tonso, operato per le fratture al volto, Petrovic contro Scariolo, duello a Bologna. Andiamo a vedere adesso invece il Corriere Adriatico, sempre l'edizione pesarese. Turni di notte, pochi dottori, con l'avvio della formazione si rischia la carenza di sanitari per i servizi territoriali di guardia medica. Centro pagina, lavori pubblici, doppia dirigenza. Ricci affida a Severini, o meglio Severini affiancherà Giraldi. Queste sono le novità all'interno del Comune di Pesaro. Poi paura per un 17enne, anzi una 17enne, una ragazzina finita all'ospedale perché ha bevuto troppo alcol. Sempre da Pesaro, tensioni in carcere. Gli agenti protestano e si autoconsegnano. Il carcere è quello di Villa Fastigi. Assalto al Bancomat Alfano Center, visionati i filmati, i banditi erano tre. E adesso il Corriere Adriatico, edizioni macerate. Invece tre cadaveri in una villetta, marito, moglie e figlio trovati senza vita in Borgo Santa Croce. La scoperta shock dopo mesi. A centro pagina invece terrore a San Severino, camion sprofonda nella voragine. La verità. E la verità invece questa mattina pubblica una notizia in esclusiva. la ricostruzione in esclusiva della notte del 13 agosto che potrebbe inguaiare il ministro dell'interno, la Morgese, che ancora salda al suo posto. Ma a questo punto, dopo quello che pubblica oggi, la verità sarà un po' più difficile restare al suo posto. Ma vedremo. Di che cosa si parla? Ricorderete il party, quel mega party di Viterbo, dove hanno partecipato migliaia di giovani, che poi ne hanno combinate di ogni, tra droga, alcol, musica e quant'altro. Ebbene, oggi si evince che questi camper, che poi hanno partecipato a questo rave party a Viterbo, sono arrivati scortati da arma e polizia. Le forze dell'ordine hanno intercettato una colonna di mezzi diretti alla festa illegale. Dopo un consulto con gli uomini della Lamorgese, hanno avuto indicazioni di non bloccare i veicoli fino al lago di Mezzano, dove poi si è scatinato di fatto l'inferno. Poi Speranza, invece, il Ministro, che è finito anche oggi sotto la lente di Maurizio Belpietro, il Ministro che ha una sola via d'uscita, cioè quello di dimettersi, Speranza non aspetta invece l'EMA e quindi obbliga la terza dose, mentre si alza sempre più la sticella delle attività condizionate al possesso del Green Pass e Bianchi, che delira. Mentre sui vaccini e sui diktat di taglio basso, la libertà collettiva di Mattarella fa pugni con la libertà. E adesso andiamo a vedere la pagina del resto del Carlino. Emilia Romagna Marche, lo trovate dunque nell'edizione regionale. Le Marche non rischiano la zona gialla, dice Acquaroli, che insiste sulla posizione che è sempre stata la stessa, non ha mai cambiato, dico no al vaccino obbligatorio, il Governatore dice siamo leggermente fuori solo per il parametro delle terapie intensive, ma molto vicini all'immunità di gregge. Ricordiamo che i parametri di soglia per entrare in zona gialla sono l'occupazione delle terapie del 10% e del 15% invece in area medica. Ovviamente noi siamo un po' sopra, 10,3 se non ricordo male, quindi teoricamente avremmo sfondato. Ma c'è l'area medica che invece è molto bassa, perché mi pare che siamo intorno al 6 e qualche cosa, mentre il 15 è ben distante. E poi c'è la questione dell'immunità di gregge, perché le Marche, e lo vedremo tra un istante, insomma i marchigiani anzi, sono stati coloro che insomma hanno deciso di fare questo vaccino. Allora, entrando un po' nel dettaglio di questa intervista che ha realizzato Alfredo IV, allora la domanda è, Draghi sostiene l'obbligatorietà dei vaccini, lei come si pone? E lui risponde, premetto a scanso di equivoci che io sono vaccinato, come se fosse un merito, ma comunque per non rischiare l'agonia, lui deve dire, come tutti, io sono vaccinato, oppure chi entra con il Green Pass lo mostra volontariamente, come dire io ho il vaccino, io ho il Green Pass, io sono immune, io non contagio, è un po' questo il life motive della gente. Detto questo, non sono favorevole, dice ancora Acquaroli, all'obbligatorietà. Credo sia giusto lasciare libertà di scelta, dice il governatore. E dico questo guardando i dati della mia regione, dove i cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose sono 1.066.693, ovvero il 78,45% di cui già 908.866 hanno effettuato il richiamo e dunque sono immunizzati, un termine un po' così sprovveduto, ma comunque sono vaccinati. Il target di cittadini nelle Marche, quello superiore ai 12 anni, è di 1.359.604, cioè gli aventi diritto a questo vaccino sono 1.359.604 persone. Siamo vicini, senza nessun obbligo, alla soglia dell'80% che porta appunto all'immunità di Regge. Mentre sulla questione, ecco scusate che sta andando via l'immagine, allora, quindi Presidente, lei nessuna obbligatorietà, ribadisce, richiede ancora una volta, e Aquaroli risponde, credo che in questa situazione sia necessario agire in maniera equilibrata, quindi bene il vaccino, così come è fondamentale un'informazione seria. Vedete, qui è una stoccata anche a quei giornali, a quelle televisioni che fanno un'informazione faziosa. Qualcuno dirà, beh, tu cosa stai facendo? No, io non sto facendo un'informazione faziosa, io sto facendo un'informazione alternativa, perché qualcuno dice, ah, ma devi far sentire anche l'altra campana. Allora, l'altra campana la sentite in 800 canali televisivi e nel 99% dei giornali. L'unica televisione che dice qualcosa di diverso, oltre a qualche sito e a un giornale, siamo noi, come locali, e mi pare che a livello nazionale non ci sia nessun altro. Quindi, ecco, quando dice Acquaroli è fondamentale un'informazione seria e soprattutto trasparente, intende dire proprio questo, cioè senza nascondere la verità, o meglio, senza nascondere le notizie. Poi dopo, se sarà la verità, lo vedremo e ce lo dirà la storia. Ma senza essere trasparenti significa proprio questo. Ok, andiamo invece adesso sulla domanda che Quarta ha fatto sempre da Acquaroli, dove dice, il Ministro, chiede, il Ministro dell'Istruzione Bianchi ha avanzato l'ipotesi che nelle classi dove tutti i ragazzi sono vaccinati è possibile togliere la mascherina. È una strada per lei percorribile? La risposta di Acquaroli è, diciamo, che non mi convince anche perché non ci sono evidenze scientifiche che ci portano a dire che i vaccinati non possono trasmettere il virus. Non possiamo rischiare di far tornare i nostri ragazzi in DAD. Quindi, cosa significa? Tradotto che la scienza ci dice che anche un vaccinato potendo contagiare, quindi è inutile mettere in classe dei ragazzi, dei bambini senza mascherina, perché basta uno di loro che è positivo, contagia tutti gli altri, anche se sono tutti vaccinati. E questo lo dice la scienza, non lo dico io. Trovati morti, ecco, questo è un'altra invece problemi, non sono solo quelli del vaccino, del Green Pass, ma ci sono anche problemi molto più importanti, se vogliamo. Perché? Perché questi, se non risolti, portano alle tragedie, alla morte. Trovati morti dopo mesi in una villetta. Siamo nel Carlino di Macerata, ma lo trovate un po' in tutte le edizioni. È giallo sulla fine della famiglia Canullo, Scoperta sciocca a Borgo Santa Croce, vittime i coniugi Eros, che aveva 80 anni, e Angela Maria, di 77, con il figlio 54enne, Alessandro. La polizia non ha rilevato segni di violenza, nessuna traccia di monossido, l'allarme dato da un parente. Oggi sarà svolta l'autopsia. La città è sconvolta, dice con il cordoglio, il sindaco Sandro Parcaroli. Parcaroli che dice questo dramma ci deve far riflettere, dobbiamo essere più attenti ai bisogni legati all'isolamento. Chi era questa famiglia? Il figlio era rimasto disabile dopo un incidente stradale. Negli anni 90 si chiamava Alessandro, lo vedete prima dell'incidente, in questa immagine qua. Era un appassionato di musica, questo ragazzo che poi adesso aveva 54 anni. Ha avuto un brutto incidente negli anni 90 quando era uno studente universitario in seguito al quale era rimasto purtroppo disabile. Mentre Eros Canullo, quindi il papà di questo ragazzo, aveva gestito la fonderia che realizzava presse create da suo padre Nazareno, negli ultimi tempi si era dedicato completamente al figlio disabile e anche alla moglie malata. La moglie Angela Maria Moretti era in pensione da alcuni anni dopo aver lavorato a lungo come logopedista. È stata colpita di recente anche da un ictus, era stata ricoverata all'ospedale di Treia e poi era tornata a casa dove però era costretta a rimanere a letto. Ecco, questa è la fotografia di questa situazione così pesante, drammatica. Si sono isolati in questa casa, poi lo vedremo tra poco nella prossima pagina, e lì il dramma è diventato insopportabile. Malattie su malattia, un mazzo di fiori portato dai vicini, i genitori vivevano per Alessandro, Gerry e Daniele e Patassi. Pensavano, dico, fosse al mare, al porto Recanati, in realtà erano dentro casa. Ma quella terza pagina del carriolo di Macerata è dedicata ad un intervento dello psicologo Bravi che dice, tagliati i ponti con il mondo esterno, il Covid esaspera la chiusura. In alcune famiglie si creano rapporti molto intensi, ma si escludono interferenze da fuori. Questo è un dramma senza responsabili. Anche la casa isolata, lo vedete nella fotografia, la casa isolata è un luogo ideale per ritirarsi da tutto, per nascondersi dal mondo. e quindi vivere il proprio dolore senza nessun contatto con l'esterno. La pandemia ha creato problemi importanti anche in situazioni più tranquille. E sotto il quartiere, sotto shock, caso sfuggito alla rete assistenziale della parrocchia, Don Piero Andrea Gnocchi dice abbiamo una realtà ben organizzata, eppure ci sono situazioni simili. È un fatto che deve farci preoccupare. E poi c'è un altro sacerdote, un altro presbitero, un altro prete, che dice sono stato avvolte nella loro abitazione, ricorda Don Alberto Forconi, fino al 2019, parroco a Santa Croce, c'è stato per che cosa? Per la benedizione. Ce la siamo dimenticati, no? La benedizione delle case. Una cosa che si faceva e che adesso non si fa più a causa della pandemia. A volte sono anche alibi. Adesso posso capire il primo anno, ma torniamo a fare queste benedizioni, benedette in queste case. Anche perché è l'unico modo per andare a visitare, per capire e per vedere. Però questo è. Andiamo a tre persone che non ci sono più, tre persone che invece vengono alla luce. Sempre sulla cronaca di Macerato. Un parto prematuro, tre gemelli, grande professionalità a ostetricia. tutti e tre hanno fatto registrare un peso di circa due chili, ora stanno bene, sono nelle mani della mamma, che si chiama Irina, di origine rumena e del suo papà. C'è voluto un cesareo molto delicato nel reparto di Pelagalli. Ora i bimbi e la mamma però appunto sono in buone condizioni. Ma c'è un altro evento che ha scosso la comunità di Ancona. Una donna, una ragazza, una donna di 35 anni, la vedete in questa fotografia, è morta dopo un incidente in moto. Lei si chiama Jennifer Fiori, aveva 35 anni ed era una campionessa di ciclismo, una professionista che aveva fatto dello sport la sua ragione di vita. Questa è l'immagine terribile di questo schianto con questo lenzuolo a terra. Ed è un tratto, questo stradale, un tratto definito maledetto perché già ha ammiettuto due vittime, Francesco Sacinto che aveva solo 15 anni e Michele Barchiesi che ne aveva 16. Torniamo sulle pagine di Pesaro e Urbino sul Corriere Adriatico. Troppo alcol, ragazzina collassa, l'amico spaventato, chiede aiuto. È successo domenica pomeriggio a Vismara, la 17enne si è ripresa ed è finita in ospedale. Indaga adesso la polizia. Assalto al Fano Center erano in tre i filmati, sono stati visionati, caccia alla banda, indagini sulla ramificazione locale dei malviventi, ancora sotto sequestro il Bancomat che è stato ritrovato, ma intatto lo ricordiamo. Ancora cronaca dal Corriere Adriatico di Pesaro, motociclista pesarese, resta ferito all'Aquila, il Centauro si è scontrato con una utilitaria che aveva a bordo marito e moglie. È un motociclista pesaresi di 33 anni che è rimasto ferito nella giornata di domenica in un incidente stradale avvenuto in Abruzzo. Le barche tornano in mare dopo 37 giorni. Il Corriere di Fano, pesce fresco da domani sui banchi, torna allo strascico, ci si prepara per il brodetto fest, giardini e cauto, dice il risultato è però da vedere. Norme finalizzate alla sostenibilità ambientale ma non a quelle economiche. Mentre alla trave gli irriducibili del no, Tonelli obiettivo zone 30, si vuole agire ugualmente nelle vie Bellandre-Galilea, il tratto è stato chiuso per garantire adesso il rifacimento del manto stradale, quindi l'asfalto. Sul Carlino di Fano invece anche il Palasport è in quarantena, cresce l'insofferenza tra i tecnici per lo stallo in cui si trova il progetto, l'assessore Fanesi dice se avessimo 10 milioni e poi la piscina, un altro cantiere che è aperto, se tutto va bene si potrà utilizzare a metà del 2022, sono ripartiti i lavori dopo lo stop. A Urbino invece ci si domanda come fermare gli allagamenti soprattutto nella frazione di Canavaccio dove l'ultimo violento acquazione ha provocato danni e disagi. Il problema è anche della pulizia delle caditoie. Fermare gli allagamenti si può ma bisogna farlo, queste sono le fotografie che il giornale pubblica questa mattina anche con vedete l'acqua e fango ovunque in tutte le strade in questi quartieri e un po' la situazione dopo ogni acquazzone che insomma fanno vedere com'è la situazione in questo quartiere. Dunque lo sport registriamo un evento importante questa mattina una conferenza stampa alle 11 nella sede di via Toscanini a Fano dove è prevista la presentazione ufficiale del nuovo presidente dell'Alma Juventus Fano l'imprenditore casertano 43 anni Mario Alessandro Russo con lui ci saranno anche il sindaco di Fano Massimo Seri e l'ultimo presidente ovvero Enrico Fatò Fidani per un ideale passaggio di consegne dunque oggi tra l'altro si conosceranno anche i gironi quindi intorno alle 13 verrà messo in rete questo filmato dove ci sarà la composizione dei nove dei nove gironi dove giocherà il Fano sotto invece il Real Metauro ambizioso il direttore Rondina dice giusto mix tra giovani ed esperti non ci nascondiamo la visse invece perde il suo asso tonso operato al volto frattura al setto nasale e all'osso facciale per l'argentino ricoverato ad Ancona coppola colpito da una tacchettata di mutton punti di sutura alla testa e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti